L'oroscopo è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di FIERUSCH TV A riete, la circolazione di nuove idee è sempre una cosa positiva e voi ora siete disponibili ad ascoltare i suggerimenti degli altri Il legame tra voi e i vostri amici si stringerà ancora di più e insieme affronterete una nuova avventura Toro, l'attenzione di oggi si fa sentire e non è solamente legata a tutte le attività che avete programmato per questa settimana lavorativa Ogni piccola sciocchezza potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso Parlate chiaro e siate sinceri Gemelli, oggi vi sentite di buon umore e siete pieni di idee molto interessanti Se avete voglia di immergervi nella natura per camminare non esitate a prescindere dalle condizioni meteorologiche Cancro, alcune novità vi entusiasmeranno a tal punto da volervi buttare a capo fitto in imprese particolari e anche un po' rischiose Questo non è il momento di essere prudenti Anzi, è il momento di osare Buttatevi e non ve ne pentirete Leone, occorre fare chiarezza su una certa situazione Sicuramente avreste preferito rimandare un confronto acceso e anche evitarne le conseguenze ma non potete tirarvi indietro, non sarebbe giusto Vergine, attenti a fare il passo più lungo della gamba Cosa che a voi non accade quasi mai Oggi vi lascerete alle spalle dubbi e incertezze e vi lancerete senza paracadute Come andrà? Proverete e lo scoprirete Bilancia Potreste cominciare a tirare fuori qualche sogno dal cassetto visto che ormai i vostri progetti sono talmente tanti da non riuscire più a essere contenuti da qualche parte Qualcuno a voi vicino vi farà una piccola sorpresa Scorpione, oggi vi sentite un po' affaticati ma la giornata avrà comunque un bilancio molto positivo Date maggiore priorità ai vostri bisogni e ascoltate di più il vostro corpo Una piccola vacanza è proprio quello che vi ci vuole Sagittario, oggi siete un vulcano di nuove idee e pensieri Sarà soprattutto il vostro spirito creativo a travolgervi e a portarvi lontano verso lì di ancora sconosciuti ma sicuramente molto interessanti È un buon momento per sperimentare nuove abitudini Capricorno Quando volete aiutare qualcuno cercate di farlo sempre senza giudizio A voi non sembra ma a volte le vostre critiche anche se espresse a fin di bene possono risultare troppo pungenti State vicini ai vostri amici ma rispettate soprattutto le loro idee Acquario, oggi avrete la possibilità di cogliere al volo un'occasione per voi molto importante Con gentilezza saprete toccare le corde giuste nel cuore delle persone che incontrerete suscitando un'immediata simpatia che vi porterà a stringere dei legami molto importanti Pesci, in questo momento per voi è molto importante sentirvi liberi anche se questo vuol dire andare incontro a discussioni con il vostro partner Siete insufferenti alla routine ma non per questo volete venire meno a tutte le vostre promesse Grazie, ci vediamo all'oroscopo di domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti